Loredana Lecciso, dove è Albano? Beccata con un altro uomo, spuntala la verità. Loredana Lecciso sorprende il web e posta una foto incredibile, dove è Abano? Spunta un altro uomo ecco la verità sulla tanto amata coppia. Loredana Lecciso e Albano sono stati a lungo il simbolo di amore e sincerità. La loro storia, seppur travagliata a volte, ha sempre resistito a male lingue e presunte crisi, ma oggi potrebbero veramente essere cambiate le cose? La Lecciso è ormai una showgirl affermata ed amata dal suo pubblico, la donna ama condividere con i suoi fan scatti di vita quotidiana nella quale racconta come sta trascorrendo le sue vacanze. E proprio dai social, alla quale lei è legatissima, che arriva l'allarme, la Lecciso presenta un altro uomo. Guai in vista per il povero Albano. Vediamo i dettagli. Loredana Lecciso, ecco la verità sull'altro uomo. Solo pochi giorni fa i due, Albano e Loredana, festeggiavano i loro 21 anni di puro amore, i momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità, aveva dichiarato la donna. I due sembravano più uniti che mai, decisi a prendersi ancora una volta per mano e camminare insieme, formando una famiglia bellissima e coltivando un amore invidiabile. Questo aveva messo anche a tacere il presunto ritorno di fiamma con la ex compagna Romina Power. Infatti dopo aver annunciato il ritorno ad esibirsi insieme sul palco, in molti avevano creduto si trattasse di un amore rinato, voci smentite immediatamente. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo, aveva dichiarato la Lecciso. Ma qualcosa va storto e dopo tanta convinzione appare una foto che cambia le carte in tavola. Infatti la showgirl posta sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae molto vicina ad un altro uomo, Aaron Smith Enrikson. Aaron Smith Enrikson è un nome molto noto al mondo del gossip, oltre ad essere il make-up artist ufficiale della celebre e bellissima Madonna, è anche un visual artist d'eccellenza. La sua pagina Instagram è dal nome, Vision Aaron, ha un enorme seguito ed è un racconto aperto di foto meravigliose, viaggi, luoghi incantati, abiti e stoffe vintage che lo stesso Aaron cerca, idealizza e realizza. Il suo magnifico lavoro di make-up artist spazia da Madonna alle copertine di Vogue, Aaron infatti collabora assiduamente con i grandi fotografi di moda che lo stimano molto. La foto lo ritrae accanto all'Alecciso stretti in un abbraccio. Beautiful Night, commenta Loredana seguendo le parole con vari emoticon di affetto. In molti hanno immediatamente commentato e creduto che tra i due ci fosse qualcosa ed anche se al momento non è nulla di certo, siamo curiosi di sapere come andrà a finire.